Come dobbiamo preparare questa partita? Il Foligno perde rispetto a domenica passata due pezzi importanti come Papa e Cavagna, ci sono le armi per sopperire a queste assenze? Io parlo sempre dei presenti, loro non ci sono, sono squalificati, mi auguro che chi gioca e chi va in campo a posto loro facciano anche meglio di quello che hanno fatto ultimamente gli altri.